Buongiorno a tutti, sono amici 2100 e benvenuti a nuovo live, questo è un episodio Bui continuare Reconstruzione è finita, la integrazione di neurali internazionale è iniziata Voi dormire e potremmo potremmo spiegelare di neuroni per alcuni giorni come le componenti biologiche e elettroniche sono synchronizzate Usa questa sala per mantenere la stabilità della mentalità durante il processo Grazie per il vostro servizio a vostro paese e faremo tutto in nostro potere per provare una recuperazione rapida Grazie per la visione Reconstruzione è finita, la integrazione di neurali internazionale è iniziata Voi dormire e potremmo spiegelare di neuroni per alcuni giorni come gli elementi e elettroniche componenti sono synchronizzate Usa questa sala per mantenere la stabilità mentala durante il processo Grazie per la vostra servizio a vostra regione, e faremo tutto in nostra potenza per provare una recuperazione rapidissima. La ricostruzione è completata. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti.